buongiorno da giovanni allora oggi vi voglio fare vedere questo ragno che c'è qua io nel muro di casa mia questo si chiama falancio della campagna è un ragno più piccolino di un bisello guardate io ci metto il dito e guardate che differenza non è un ragno tossico perciò non rappresenta nessuna minaccia per la vita umana rendo di questi ragni ne esistono diverse specie farancio della campagna va bene ci vediamo nei prossimi video una buona giornata